Due riconferme per i comuni della costa teramana al voto. A Martinsicuro sarà Vagnoni Bis, così come a Tortoreto, dove i cittadini hanno premiato il sindaco uscente Domenico Piccioni. Nell'unico comune superiore ai 15.000 abitanti, dunque, non ci sarà bisogno del ballottaggio. Un vero e proprio plebiscito quello per Massimo Vagnoni. Per lui 5.307 preferenze, pari al 79,21% di consensi. Su Simone Lattanzi del centro-sinistra, che si è fermata, 1.125 preferenze, pari al 16,79% di consensi. Ed è Mazzaroli, che è chiuso al terzo posto, con il 4%, con solo 268 preferenze. 13 seggi conquistati dalla coalizione vincente. 5 alla lista, continuiamo insieme. 4 a testa per Progetto Comune e Martin Rosa. Tre seggi, invece, per la coalizione civica di centro-sinistra. Insieme alla candidata Simona Lattanzi, un seggio a testa per Partito Democratico ed Europa Verde. Restano a secco Piazza Grande e la terza candidata è Mazzaroli, presidente del Consiglio Comunale uscente. Mai, nella storia recente di Martinsicuro, un primo cittadino aveva strappato il mandato bis. Una bella testata di stima nei confronti di tutto il gruppo, quindi questo ci deve dare ancora più responsabilità, perché la gente ci chiede di fare delle cose, delle cose importanti. Noi abbiamo il dovere di farle, quindi questo è un risultato che sicuramente ci riempie di orgoglio da una parte, ma anche di responsabilità. I obiettivi sono tanti, non è un problema tanto chi comporrà questa squadra, ma io ho sempre detto che tutte le persone che sono candidate faranno parte di questo progetto. Poi gli eletti, insieme a me, avranno dei ruoli in consiglio, ma questo è un comune che si amministra tutti quanti insieme, con lo stesso spirito. Quindi profilo basso, umiltà, abnegazione, lavoro, quindi su questo andremo avanti. Vittoria larga anche per Domenico Piccioni a Tortoreto. Il sindaco uscente, sostenuto dal centro-destra, ha maturato una vittoria larghissima nelle proporzioni. 3.503 preferenze con il 69,50% di consensi rispetto ai due sfidanti. La candidata della lista Tortoreto più libera da meglio ha raccolto 999 voti, pari al 19,82%, mentre Nico Carusi, candidato a trazione Lega con la lista Cambia-Tortoreto, ha raggiunto le 538 preferenze, pari al 10,67%. 11.000 i seggi che si porta a casa dunque Domenico Piccioni, 3.000 libera da meglio e 2.000 Nico Carusi. Tra i più votati, Anna Sordo, 821 preferenze, Giorgio Ripani, 724 e Alessandra D'Antonio, 421. Noi siamo la lista proprio chiamata Sì, amo Tortoreto, Siamo Tortoreto e questo è quello che i nostri concittadini hanno apprezzato e ci hanno dato per questo questa grandissima, enorme fiducia e per noi è ancora più grande perché avere un consenso così grande ci riempie di grosse responsabilità per questi prossimi 5 anni.